buonasera mister un punto d'oro sia per a livello di morale che soprattutto a livello tattico tecnico perché si sono viste grandi miglioramenti e soprattutto anche perché era la prima classifica ha detto bene un punto d'oro che si fa classifica fa morale e soprattutto ci fa prendere conoscenza consapevolezza che giocando con intensità aggressività come abbiamo fatto oggi sicuramente ci toglieremo anche delle delle buone soddisfazioni non sono contento oggi della prestazione delle delle mie ragazze sapevamo che la partita da affrontare oggi non era una partita per niente facile contro comunque una squadra che era prima in classifica abbiamo messo in campo tanto orgoglio tanta grinta determinazione penso che anche la partita poi nell'arco di minuti li abbiamo disputati anche in un modo gradevole dopo un primo tempo abbassa il gestito bene il rigore fischiato dall'arbitro poteva subito all'inizio del secondo tempo poteva decretare un altro tipo di partita tutti i vostri sforzi potevano essere andati e va detto bene grande che il nostro portiere all'esordio di questa categoria che ha fatto un'ottima parata però io so che una buona reazione da parte delle ragazze che hanno preso consapevolezza che la partita si poteva fare fino in fondo quindi merito a tutte le ragazze per la partita di oggi speriamo di continuare con questo entusiasmo con questa grinta questa determinazione sabato ci aspetta una partita ancora molto difficile importante contro una compagine che ritengo uno dei più forti di questo campionato andremo a meglio da giocare con le nostre carte si è visto che la squadra il gruppo è buono anche alla fine della partita si sono abbracciate tutte ma soprattutto in campo che si aiutano e si si sacrificano anche per chi non riesce se è vero la coesione che c'è in questo gruppo mi sta entusiasmando veramente sia all'interno del spogliatoio che in termini di applicazione proprio sia dal punto di vista tecnico tattico e fisico noto che c'è una buona disposizione sia a livello individuale che come come squadra veramente sono soddisfatto di queste ragazze il mio compito è non è semplice però con questo entusiasmo faciliteremo tante nostre situazioni grazie mille buon lavoro